Cassa integrazione straordinaria per un anno per tutti i lavoratori della Ness. Questo è l'esito dell'incontro di Roma deciso nel pomeriggio odierno tra sindacati e azienda al Ministero del Lavoro. È una cassa integrazione straordinaria di 12 mesi e poi vedremo come gestirla. Il Ministero ci convocherà il giorno 21, che è già fissata la data, per verificare le modalità di questa cassa integrazione. Cassa integrazione straordinaria non più per 670 dipendenti, bensì per 630. È notizia di oggi che i restanti 40 si sarebbero dimessi avendo trovato occupazione altrove. Sono diventati 620-630 perché l'azienda stamattina ci ha fatto un po' il quadro della situazione, perché molti lavoratori hanno dato le dimissioni e sono andati in altri posti di lavoro, immagino. Ma la situazione per i lavoratori resta ancora precaria e incerta per due fattori. Il primo, l'incontro di mercoledì con il prefetto di Venezia, che potrebbe revocare o sospendere la licenza alla Compiano. Senza di essa, impossibile svolgere l'attività di trasporto valori. Infine, i risvolti dell'inchiesta giudiziaria in corso. Qualora venisse dichiarato il fallimento dell'azienda, vista la voragina montante a 90 milioni di euro, il pubblico ministero Massimo De Bortoli potrebbe modificare a Luigi Compiano il capo d'accusa. Da appropriazione in debita, l'ipotesi di reato si tramuterebbe in bancarotta fraudalenta. Per i lavoratori, significherebbe cassa integrazione per cessazione attività, con maggiore difficoltà nella ricollocazione.